Gentile collega, il caso che porta alla tua osservazione è un caso in cui si aveva la certezza di una paziente che aveva contratto il citomegalovirus in gravidanza. Aveva eseguito un'amniocentesi con la ricerca per vedere se l'agente patogene era presente nel liquido amniotico e in che quantità c'era un'altissima carica virale, si osservava un ritardo di crescita, la paziente era a 23 settimane e un giorno e le dimensioni corrispondevano a 21 settimane e 0 giorni, caratterizzate da una dieve riduzione della testa, dell'addome, degli arti, con un'epatomegalia, con una cardiomegalia, con un'effusione pericardica, con assenza di ascite ma con un'alta velocità in cerebrale media, con perfetti valori sull'ombelicale, sul dotto venoso e soprattutto con delle uterine ottime a configurare che il ritardo di crescita non era legato ad un'insufficienza placentale. Con un'iperplacentosi caratterizzata da tanti puntini lucenti tipici delle infezioni virali, da un oligoedramnios, quindi avevamo tanti tasselli, nessuno di questi tasselli si vada bene, era facile da riconoscere, nessuno di questi tasselli da solo poteva dare un significato, il chiaro segno dell'infezione da sintomecalovirus c'era stato dato dall'indagine invasiva. E adesso tu stai vedendo un poco tutto l'esame, vedi anche che i cristallini erano normali, tra volte nelle infezioni puoi avere una cataratta, certo non subito ma a distanza di molto tempo. Quello che mi preme di sottolineare è di vedere tutti questi segni, già adesso tu stai vedendo l'effusione pericardica e la cardiomegalia, la riosserveremo successivamente, ci ritorneremo, te la farò vedere anche a termine dell'esame e quindi ti serve questo esame come metodologia di studio per dire guarda che il cuore si ha più della metà, occupi più della metà del torace, si vede, però tu lo devi garantire con la misurazione con l'indice cardiotoracico in cui tu misuri le due circonferenze, toracica e cardiaca. Il cuore tu lo devi studiare in tutti e per tutto, qui ti indico l'effusione pericardica, ci ritorneremo e te la renderò più manifesta. Non è certo facile andare a riconoscere l'epatomegalia, ma esistono dei nomogrammi di crescita per cui la puoi vedere, c'era anche uno stomaco che si riempiva poco, molto poco, le velocità sulla orta e sulla polmonare erano regolari, ritornando al cuore, per quanto riguardava l'addome tu vedrai un'epatomegalia, uno stomaco sempre piccolo, un allievi per ecogenicità intestinale, un oligodramnus, dei reni apparentemente normali, anche se, ecco qui tu stai vedendo lo stomaco piccolo, e poi quello che vedi è il fegato a decostruttura regolare, non ci sono calcificazioni, potrebbero comparire in un successivo momento, così come potrebbero comparire in un successivo momento il danno cerebrale e altri segni. Qui noi stiamo vedendo l'addome e continuiamo a vedere, vedi, osservi in queste immagini non tanto l'epatomegalia che adesso ti vado a misurare, ma quando vai ad osservare con attenzione invece la placenta, che è piena picchiettata di questi piccoli puntini bianchi, che sono tipici delle infezioni, vedi l'intestino iperecogeno che ti ho detto prima, vedi la quantità di liquido ammniotico che a occhio vedi essere molto bassa, ma a quello che è la valutazione soggettiva metteremo anche una valutazione numerica, che era inferiore a 20 mm, la tasca massima e tu vedrai che anche gli arti sono ai limiti bassi della norma, ma è tipico dell'infezione da citomegalovirus e allora questi sono un modello per dirti che sono diagnosi difficilissime che ti possono, puoi non fare, ma ricordatelo, nel momento in cui hai un ritardo di crescita, hai una situazione di questo genere, devi mettere tutto in campo e naturalmente la diagnosi di certezza ti viene data dalla indagine invasiva, adesso stai vedendo le flussimetrie che erano ottime, hai visto quella dell'ombelicale, vedrai quella della orta, hai visto quella prima del dotto venoso, vedrai quella della cerebrale, già l'hai vista, vedi l'iperplacentosi è un caso dal punto di vista didattico utile, così come è utile vedere che le uterine erano splendide e quindi diciamo che dava poco possibilità a un'insufficienza placentare, ma il ritardo era legato all'infezione e ricordatelo che quello che ci ha dato la certezza non sono questi segni, ma il dato che era stato acquisito dall'indagine invasiva, il dotto venoso è ottimo, stanno per finire le ultime immagini, ti faccio vedere di nuovo l'effusione pericardica, mostrandoti il puntino che tu devi vedere e se vedi, vedi anche un poco di fibroelastosi cardiaca, qui ti faccio vedere il quadripatico che c'era l'epatomegalia, il resto te l'ho già spiegato, ti ringrazio dell'attenzione e spero che questo caso sia stato utile per la nostra crescita professionale. Sono le ultime immagini in cui mettiamo in evidenza l'intestino iperecogeno, la placenta e la riduzione di liquido amniotico. Grazie, grazie dell'attenzione.